Martedì sera appuntamento con l'Associazione Figli per Sempre Onlus a Palazzo Verbagna di Luino. Il pediatra Vittorio Bezzetti presenterà il suo libro nel nome dei figli. L'Associazione Figli per Sempre Onlus fa tappa a Palazzo Verbagna di Luino, dove martedì sera sarà ospite il pediatra, nonché tra i fondatori dell'associazione stessa, Vittorio Bezzetti, per presentare il suo libro nel nome dei figli. Il tema trattato sarà tra i più delicati purtroppo attuali. Quando i genitori si separano, realmente vengono tutelati i figli e al padre viene veramente garantito il diritto di vivere il rapporto con i suoi bambini in maniera completa. A parlarci di questo importante appuntamento è il primo cittadino di Luino, Andrea Pellicini, che oltre a rivestire il ruolo di sindaco, è avvocato e conosce bene i problemi legati al divorzio e quanto questi si riversino ingiustamente sui più piccoli. Io tra l'altro, oltre a fare il sindaco, faccio l'avvocato e mi rendo conto quanto il dramma delle separazioni e dei divorzi proprio ricada sui figli. Ci sono proprio dei ragazzi la cui vita è stata rovinata da una conflittualità esagerata tra i genitori. Quindi questi sono anche problemi che poi si traducono sul contesto sociale, perché un ragazzo che cresce con questi problemi quando incontra anche da adulto i rapporti con la società, cioè li vive in maniera come una grande sofferenza.